Un turismo slow, capace di valorizzare appieno una Toscana meno conosciuta. Il turismo dei cammini rappresenta senz'altro una valida alternativa per coniugare una vacanza a contatto con la natura, con la prevenzione del rischio coronavirus, lontano dai grandi centri e di conseguenza dai grandi affollamenti. Sulla scia del grande interesse suscitato dalla via francigena, molti altri itinerari hanno assistito ad un notevole aumento di presenze. Tra questi la via degli Dei, da Bologna a Firenze, passando per le montagne del Mugello. Negli ultimi cinque anni, pensate, sono nate una trentina, 32 nuove strutture ricettive. Piccoli bed and breakfast, piccoli agriturismo, appartamenti per vacanza. Però c'era ovviamente la domanda e quindi si è creata un'offerta. E questo è una cosa importante perché ha permesso a tanti giovani di restare sull'Appennino, di restare sul territorio. Gli itinerari tra le montagne dell'Appennino restano tra i più gettonati. Sono 600 i chilometri di sentieri solo nell'area del Pratomagno. Sono gli itinerari che ci consentono di conoscere dei piccoli borghi, pascoli di boschi di faggio e di abeti e anche di attività tipiche della montagna e di luoghi in cui degustare prodotti tipici. Grazie. 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 Grazie.